mamma mia umiliata la Lazio al San Siro finisce 4 a 0 per il Milan in Coppa Italia e ci sarà il derby di Milano in semifinale mamma mia disarmante il Milan che batte una Lazio scarsa oggi veramente sotto ogni punto di vista a livello di gioco a livello di carattere oggi hanno preso 4 gol Reina imbarazzante una difesa inguardabile che oggi fa incazzare tutti i tifosi bianco celesti ma non è la prima volta quest'anno dopo le tante umiliazioni che sono avvenute nel corso di questa stagione Napoli Verona la Lazio ha un serio problema la mentalità così come per la nostra Roma la Lazio è proprio una squadra senza mentalità e Sarri non può fare miracoli una squadra che da anni ormai è ok che ha vinto trofeo con i Zaghi ma pure l'anno scorso quante volte la Lazio si è lasciata andare in queste sconfitte imbarazzanti tante tante e oggi si ripetono si ripetono e il Milan va in semifinale meritando dopo che vince il derby 2 a 1 con doppietta di Giroud che oggi ne fa altri due in forma smagliante Olivier Giroud mamma mia svanita la maledizione del numero 9 per i neri per i rossoneri scusate per la prima squadra di Milano però veramente che Milan che Milan proprio da spettacolo da popcorn da cinema il primo gol è di Leao che è in campo aperto con una palla in verticale di Romagnoli deliziosa deliziosa di Romagnoli poi Leao va in velocità e incrocia qui poteva far di più Reina che oggi è veramente imbarazzante non ne ha parata una non ne ha parata una Reina mamma mia il segnalo del 1 a 0 poi diciamo che dopo i primi 20 minuti in cui la Lazio mi stava piacendo perché la Lazio aveva iniziato bene con l'approccio alla partita Zaccagni faceva tante belle giocate un giocatore in super crescita con Maurizio Sarri ma poi la Lazio si è spenta dopo questo gol e il Milan continua a caterva continua con Giroud che con un errore clamoroso di Basic in mezzo al campo che dà un retropassaggio che restituisce palla al Milan a Prem Diaz che parte in campo aperto allarga tutto per Teo Hernandez che poi cross a basso sul secondo palo dove sbuca Olivier Giroud una difesa imbarazzante ma come marcano ma come marcano e arriva Giroud sul secondo palo che mette a segno il gol del 2 a 0 e poi da lì la fisionomia della partita è chiara il Milan domina fa il 3 a 0 Giroud prima della fine del primo tempo ancora in gol lui doppietta Prem Diaz allarga tutto per Teo tutto solo mamma mia mamma mia quindi un altro gol praticamente uguale al secondo di Giroud una Lazio che non può subire così tanti gol inguardabile anche sotto il punto di vista del gioco oggi perché tralasciando i primi 20 minuti di partita dove comunque non sono arrivate conclusioni la Lazio è stata ridicola ridicola poi l'unico che ha tirato quest'oggi è stato Pedro Pedro che torna da un infortunio è l'unico che ha saputo tirare in porta ci ha messo carattere nel secondo tempo anche se la Lazio stava sotto di tre è l'unico che prova a far qualcosa a lucidità qualità in mezzo al campo è Pedro il trascinatore ma se la Lazio quest'oggi non aveva un riferimento su cui basarsi giocavano tutti male veramente una squadra che oggi disorganizzata se ne riparti una difesa scollata con il centrocampo Milinkovic è deludente Luisa Alberto non ne parliamo che in questa stagione non mi sta proprio piacendo troppo discontinuo una Lazio che oggi quindi vede solo il Milan in campo che poi nel secondo tempo continua il Milan gestisce palle è vero che la Lazio ha avuto un po' il palino del gioco per parte del secondo tempo però era proprio una conseguenza alla gestione del Milan che è scontata è scontata per risparmiarsi le forze dopo aver fatto tre gol ma non è che si fermano qui perché arriva il 4-0 dopo minuti di spinta di spinta per fare un altro con un sanzilo pieno veramente per quello che si può per la capienza ovviamente segna il 4-0 che si, umiliati, umiliati calcio d'angolo, disattenzione assoluta scusate un cross su calcio di punizione, palla in mezzo che arriva a che si dopo la respinta della difesa della Lazio che anche qui dorme e segna che si segna che si e umilia ancora di più la Lazio che esce così dalla Coppa Italia e oggi poche cose positive per i bianco celesti che non lo so sono altalenanti in questa stagione fanno vittorie straordinarie come quella di Firenze nell'ultima gara di campionato 3-0 però poi perdono così 4-0 con il Milan e non è che sia molto felice per gli fosi della Lazio che hanno visto l'ennesimo scempio di questa stagione e ovviamente pure noi della Roma ne siamo abituati ormai però è una squadra che non ha mentalità fase difensiva ridicola e sembrava che in questo inizio di 2022 andava verso il migliorarsi invece oggi ne prendono 4 ora voglio vedere Sarri nella conferenza stampa però che cosa può dire oggi è una Lazio vergognosa si devono vergognare tutti sinceramente però vabbè goto goto perché ieri ci avrei spottuto un po' 4 pere vabbè spottato ci stanno però parlando sportivamente la Lazio ha bisogno di calciomercato Sarri non è stato accontentato io vedo gente che critica Sarri oh ma che cosa avete nella capoccia gli allenatori sono sempre i colpevoli fate il calciomercato fategli dare il lotito dai non scherziamo dai Milan devastante comunque complimenti ai rossoneri che vanno in semifinale con l'Inter noi ci vediamo alla prossima